Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Godly Rank edizione Covid. Purtroppo mi sono ammalato, come potete anche sentire dalla mia voce distrutta, però tranquilli che appena sarò meglio, torneranno i normali showcase. Sono riuscito in un modo o nell'altro a prendere la top 1000, quindi vi lascio la mia scalata verso la terza stellina. Questo, come anticipato, doveva essere un video extra, ma ci dovremo accontentare. Ho letto anche lo Zenkai di Shielded e penso che questa volta l'ultima unique sia parecchio importante, quindi magari aspetterò un pochino prima di fare lo showcase e ve lo porterò direttamente a Zenkai 6, ovviamente Covid permettendo. Detto questo, godetevi il video e scrivetemi sotto i commenti come avete finito questa season del PvP. Grazie a tutti. 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 , 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 grazie a tutti.